Buongiorno e benvenuti alle nostre breaking news dalla provincia di Arezzo a Perugia per violentarla. Secondo la squadra mobile del capoluogo Umbro i responsabili sono tre giovani individuati dopo le indagini. Tre uomini che sono stati fermati con l'accusa di sequestro di persona e violenza sessuale di gruppo aggravata. Il fatto accade nel territorio della provincia di Arezzo. La donna è una giovane di origine africana, soccorsa dal 118, è stata poi ricoverata in ospedale. Andamento dei contagi nel nostro territorio, risale la curva del Covid in provincia di Arezzo, sono 367, mentre il giorno precedente i contagi erano stati 104. A fare la differenza l'inferiore numero dei tamponi effettuati la domenica. Nelle ultime 24 ore sono stati 3.373 test effettuati a fronte degli 886 del giorno prima. Per quanto riguarda lo sport, si gioca la partita di recupero rinviata a causa Covid fra Rieti e San Giovannese. Rietini e San Giovannese attraversano un momento preoccupante, lottano entrambe per la salvezza. Da tre giorni i giocatori del Rieti sono in ritiro, mentre la San Giovannese è partita per la cittadina laziale ieri pomeriggio dopo l'allenamento. Queste erano le nostre breaking news. Grazie a tutti! Grazie a tutti!